Nuova sfida, suona un aspirapolvere Ok Devo ammettere che questa sfida mi ha mandato abbastanza in crisi Perché per suonare questo affare non avevo assolutamente nessuna idea E per questo motivo ho provato diverse strategie Innanzitutto ho provato a sfruttare il suo suono naturale, quindi accenderla Però era troppo banale, quindi ho provato a batterci sopra Ma anche lì niente di interessante Poi mi sono ricordato che esistono gli idraulici E con gli idraulici esistono le giunture da idraulici Che si allungano Infatti per chi non lo sapesse, questi tubi qua, se fatti roteare in aria Producono una nota E più gira veloce, più la nota sarà alta Cerco di farvi capire Se lo giro piano Questo è un sol Se vado più veloce Io lo trovo fighissimo Quindi mi sono detto, se funziona con questo tubicino Perché non dovrebbe funzionare con questo qui? Devo ammettere che sganciarlo è più difficile Ok, ce l'ho fatta Ho deciso di farlo in giardino perché è troppo lungo E in casa avrei distrutto qualcosa Proviamo Che figo! Che figata! Sono strafelice Tutto può suonare Che figata! Grazie a tutti